Fratelli e sorelle Nerazzurri è finito da poco Inter-Bayern-Monaco 2-0 per il Bayern. Analizziamo la partita. Allora, sono rammaricato perché perdere non piace mai. Però se io devo analizzare la partita, l'atteggiamento dei ragazzi non mi dispiace completamente. Mi è piaciuto tantissimo Onana, che è veramente incolpevole nei gol. Veramente, e ha fatto una bella partita Onana, sempre uscite puntuali, sempre ben posizionato. Nel 2-0 era riuscito a spostare la palla dalla traiettoria. Poi c'è stato praticamente l'autogol di D'Ambrosio, che sbaglia pure nel primo gol, dove si perde la marcatura di Sané. Esce Onana per togliergli lo spazio, tant'è che Onana riesce a mandarlo più largo possibile. Ma Sané e Sané la controlla bene e comunque riesce a segnare. L'Inter che perde non per le occasioni che subisce, ma perché l'Inter manca di cinismo. Siamo riusciti a sbagliare due gol praticamente fatti. Uno, Dunfri se la mette in mezzo, Gekola prende col piatto e la regala a Neuer. E l'altra, Gagliardini anticipa il difensore del Bayern, mandando il pallone in avanti. Correa chiude troppo il piatto e la butta fuori. Un peccato veramente, perché a livello di morale sarebbe stata un'altra cosa. Però la sconfitta col Bayern ci può stare. Avevo già detto che quello che io volevo vedere era l'atteggiamento. L'atteggiamento l'ho visto. La squadra non mi è dispiaciuta. Ci ha provato anche sul 2-0. Guardate, l'aveva anticipata Onana e messa fuori direzione di porta. E con la coscia la mette dentro D'Ambrosio. Però l'Inter non mi è dispiaciuta. Ora si parla di crisi, ma come se non si sapeva che col Bayern puoi perdere. Ha perso la Juve col Paris, ha pareggiato il Milan con il Salzburgo. E' andato benissimo solo il Napoli. Però l'atteggiamento c'è stato tutto. Quindi ci vediamo sabato. Ripeto, non sono amareggiato. Sono un po' così dispiaciuto perché perdere non piace mai. Ma la prestazione dell'Inter c'è stata. Ed è quello che chiedevo io ai ragazzi. Io non ho altro da dire. Un saluto, forza Inter, amala sempre. Perché nella gioia e nel dolore all'Inter ho giurato amore.